stiamo facendo, stiamo preparando i calzoz per mangiarli a casa i calzoz è tipico, questo veramente, non mi pare dire sicuro è tipico catalano e ecco sono queste cose qua sono tipo delle cipolle si tagliano le radici, si taglia un po' la punta normalmente si fanno all'abbraccio, cioè si fanno al barbecue però in casa si possono fare pure al forno non diventano uguali però, sempre buoni e si mangia con la salsa romesco dove abbiamo messo? ah sta là la salsa con la salsa romesco, che è questa qua salsa calzoz che c'è dentro? pomodoro, olio d'oliva, olio di girasole acqua, mandorle, aceto e spezie, sale, aglio vabbè, stabilizzanti contiene solfati e frutti secchi insomma, questa è la salsa dei calzoz poi vi faccio vedere come se mangiano questi calzoz che l'ho provato per la prima volta domenica scorsa dopo 8 anni che vivo qua e niente, questo agomezzino che li pulisce lì ci sono questi belli pronti li mettiamo sulle teglia li dobbiamo ripartire meglio, se no non si cuociono carta stagnola, teglia e al fornetto adesso il forno si sta scaldando 220 gradi non sta scaldando molto questo? a qualcuno si va bene e niente, dopo il pomodoro e niente, dopo vi faccio vedere non metti i calzoni lo mettiamo pure verso di là o no? si, si lo passa che c'è il camelo non lo sa chi lo è il camelo non lo sa non lo sa non c'è chi ti dico basta, basta non passa nada, se si tocca oddio, so so cipolle iniziamo a manchere con gli occhi olio si, se lo metti in mente si ancora? non lo so non si doveva pulire? no sulla parte di fuori si toglie abbiamo messo il calzossa in forno abbiamo messo il timer a 15 minuti vediamo un po' come stanno tra 15 minutini ho 10 minuti che sono in forno e già si stanno facendo calzottini che odora c'è un buon profumozzo di cipolla dolciastra qui ci sono i calzozzi quelli che sono già pronti questa è la salsa buona abbiamo fatto pure l'aglioli che è a base è tipo una maglionese con l'aglio buona pane mmm questo è fra quello che dovo e le pelle poi vi faccio vedere come si mangia nel superi screen i calzozzi allora vediamo questi sono i primi che abbiamo fatto devono essere così bruciati devono essere bruciatini allora si prende il calzotto e si tira giù si prende dalla cosa verde e si tira giù così rimane questo poi questo si prende e si mangia ok 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 che buono che buono Grazie.